Dopo l'estoterismo e occultismo dei simboli presi dalla clavicula Salomonis alla filosofia occulta di Cornelio Grippett similia in Doctor Strange della Marvel diretto da Scott Derrickson ecco scritto da Scott Derrickson, ecco che arriva a Bastard dove magie, erotismo e fantasy si fondono in un'alchimia perfetta. Prodotto da Liden Films, Bastard è l'anime originale Netflix che porta sul piccolo schermo un adattamento del manga di Kazushi Agivara. Dopo 400 anni della caduta della civiltà in un mondo ritornato al Medioevo ovunque e guerra. Per salvare il regno di Metallicana, Yoko, adolescente figlio del Gran Sacerdote fa tornare in vita il leggendario stregone da Dark Schneider.